ciao a tutti bentornati nel canale di studio 72 oggi andremo a vedere un altro effetto da fare sempre con lockdown col plugin di lockdown già la scorsa settimana erano andate a vedere come utilizzarlo per fare il deep face nei movimenti con la faccia questa volta andremo a vedere come utilizzarlo invece su una maglietta per andare ad applicare tipo un logo o una scritta prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbia già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial bene una volta aperto il nostro after effect io ho importato appunto il video nella quale andrò applicare la scritta tramite lockdown che è questo quindi andiamo a fare la stessa procedura che abbiamo fatto l'altra volta ora me la tornerò a spiegare comunque se volete andare a vedere anche il video dell'altra volta ve lo lascio sotto in descrizione quindi selezioniamo il nostro video e andiamo ad aggiungere sotto effetti vi ramos lockdown come ho spiegato l'altra volta ma queste finestrelle me le da qui in una finestra separata perché è una versione vecchia nella versione nuova le da qua sopra ma insomma non cambia niente solo questione di interfaccia quindi una volta messo il nostro effetto selezioniamo la nostra traccia video e andiamo a fare precomposizione lui appunto ci andrà a fare la precomposizione del video ora selezioniamo di nuovo la nostra traccia e andiamo a fare optional tracking filter in modo che ci crei questo filtro per andare a vedere meglio i movimenti che fa adesso io mi sposto in avanti fino dove compaiono appunto le mie mani perché non devo andare a selezionarle altrimenti mi va ad alterare anche le mani quindi in questo modo io so l'area in cui andare a interagire quindi ci spostiamo qua sopra come come vedete ha messo i filtri del tracking quindi andiamo giù selezioniamo lockdown poi come detto anche l'altra volta con command o control se avete windows tenete premuto sulla tastiera se andiamo a fare dei clicchi col mouse come vedete ci crea questi pallini io nel mio caso voglio andare a fare una sezione rettangolare per farlo semplicemente teniamo sempre premuto command o control clicchiamo col mouse se noi andiamo a disegnare un rettangolo come vedete ci crea i nostri punti volendo possiamo andare aggiungere di più quindi io ne vado ad aggiungere in mezzo degli altri sempre tenendo premuto command o control andiamo a aggiungere altri punti bene una volta finito di fare appunto la nostra griglia andiamo in giù qui nel menu a tendina lasciamo accurate accurate in modo che faccia un tracking accurato e andiamo a fare press to track point e aspettiamo appunto che faccia i suoi calcoli bene una volta finito appunto di fare la sua analisi come vedete i punti da quadrati sono diventati tondi vuol dire che ha fatto il suo tracking ora andiamo nel punto 6 andiamo a fare auto triangoli praticamente ci va a fare la triangolazione dei nostri punti quindi basta cliccare come vedete è andato a creare questo reticolo in questa posizione sia nella posizione dove siamo iniziale dove siamo appunto andati a inserire i nostri punti gli andiamo a dire applica mesh on this frame come vedete già applicato la nostra maschera ora possiamo andare a disabilitare i filtri del tracking in questo modo e adesso quello che ci resta da fare è andare su lockdown e aspettare che ci compaia la scritta appunto che il programma ha finito vedete your clip is locked down facciamo ok e lui è andato appunto a farci la nostra il nostro tracking ora per andare a inserire l'immagine un logo insomma una scritta qualsiasi cosa dobbiamo cliccare su questa pre composizione che ci è andato a creare quindi facendo doppio clic come vedete si apre qui c'è il nostro punto iniziale io vado a importare il mio logo premendo s con la tastiera vado a ridurre la scala lo vado a posizionare nel punto più o meno che voglio e se noi adesso andiamo nella nostra prima composizione come vedete la nostra scritta sarà già adeguata secondo anche le curvature della maglia volendo possiamo andare a cambiare anche il metodo di fusione quindi se non ce l'avete qui qua sotto facciamo pass switch o modalità come vedete ci dà le modalità di fusione da normale possiamo andare a fare sovrapponi così sovrappone un po troppo tipo si potrebbe fare un luce soffusa nel mio caso però il 72 me lo me lo elimina non si vede comunque così sarebbe più realistico adesso io comunque lo lascio normale giusto perché così si veda meglio e se noi adesso andiamo a vedere come vedete il movimento segue perfettamente l'andatura che le nostre mani va a fare in questo modo stessa cosa nel caso in cui volessimo andare invece di un'immagine volessimo andare a fare una scritta io adesso vado a deselezionare il mio logo seleziono lo strumento testo posso andare di scrivere tipo prova vado ad aumentare leggermente il font in questo modo andiamo a disattivare il maiuscolo altrimenti non si fa spostare la nostra scritta la vado a posizionare bene o male dove preferiamo e se torniamo di qua come vedete stessa cosa la nostra scritta seguirà perfettamente il movimento della nostra maglia in questo caso possono dargli a dare tipo luce soffusa in modo che me lo renda più in trasparenza che sembra ancora più realistico bene questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial io vi ringrazio di avermi seguito vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto lasciate un like al video se vi è piaciuto commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti ciao